Dopo la presentazione avvenuta mercoledì scorso, Giovanni Pagliari è immediatamente tornato in campo per continuare ad allenare i suoi ragazzi e per studiare la rosa a sua disposizione e capire quali correttivi a portare. Sarà un 4-3-3, almeno in partenza, il modulo preferito dal tecnico di Tolentino, che in base agli elementi a disposizione predilige questo assetto. La notizia di mercato del giorno, anche se il presidente russo ha evitato di fare nomi, riguarda il centrocampo, con il numero 1 del sodalizio che conferma. Presidente, non le chiedo nomi, non le chiedo il ruolo, le chiedo i tempi, quando il primo bel regalo a mister Pagliari per questo suo arrivo all'Aquila. Allora, contiamo di concludere in mezzo al campo, quindi ti dico il ruolo, entro la fine della settimana per completare numericamente almeno la possibilità di giocare a tre in mezzo al campo con tre over. Quindi sicuramente un innesto ci sarà in mezzo al campo. Sarà un innesto che farà vibrare i polsi dei tifosi, Presidente? Diciamo che sicuramente i profili che noi scegliamo per venire all'Aquila riteniamo che siano profili per fare un campionato vincente. Non nessuno under o over dei calciatori che abbiamo scelto riteniamo che sia un basso profilo. Quindi sicuramente penso che sarà un calciatore che sarà soddisfacente per i tifosi aquilani. Fatto questo, con calma cercheremo di fare qualche altro innesto, valutando bene quello che abbiamo. È chiaro che cambiando il modulo ci potrebbe essere qualche necessità di sfoltire da qualche parte e eventualmente reinserire qualche giocatore sia under che over da qualche altra parte. Grazie Presidente.